Oggi cambio location, non ho idea delle luci, di niente, ma soprattutto non ho idea di quando riuscirò a caricare i prossimi video perché non carica! Cioè ragazzi arriva a un certo punto e si blocca, non so perché, quindi devo perennemente monitorare la situazione qui perché arriva una certa e lui, boh, smette di caricare e non va più avanti Vabbè, io nel frattempo sto registrando video, ma non mi chiedete quando saranno online perché non lo so Ciao ragazze, benvenute ad un nuovo video Ciao ragazze, benvenute ad un nuovo video Come vi dicevo, non so se riuscirò mai a caricarlo questo video sto avendo problemi con internet da quasi una settimana e quindi mi è impossibile caricare i video Io nel frattempo, visto che ho finalmente qualche giorno di pausa prima della laurea, insomma sto registrando un po' di video, poi spero di metterli online il prima possibile Vi dicevo, oggi vorrei rispondere a uno dei must video che ormai stiamo vedendo sempre su YouTube ossia il tag sulle tazze, sulle collezioni delle tazze Sì, ok è uno dei video più gettonati al momento su YouTube quindi in qualità di YouTube ho deciso appunto di mostrarvi la mia misera collezione di tazze se no, in realtà ho praticamente qui davanti a me centinaia e centinaia di tazze Allora, inizio subito da quelle praticamente che ho acquistato che mi so... Mamma Vi stavo dicendo no, non mi ricordo più, va bene e comunque vi mostro per prime le tazze che ho acquistato durante i viaggi perché fino a qualche tempo fa, diciamo, per me era sempre bello comprare quando appunto ero all'estero, durante qualche viaggio, una tazza per ricordo di quel momento, di quei giorni passati lì in quel posto e in realtà poi, dato che di tazze mi sono resa conto di averne parecchie a casa tipo quest'estate non ne ho comprata nessuna durante il viaggio a Praga forse l'ha comprata Ale, il tazzone a forma di birra però vabbè comunque ho preso altri ricordini, ecco Allora, vi mostro la prima tazza che ho acquistato durante il viaggio a Berlino che è la famosissima tazza di Starbucks un must praticamente è stata la mia prima volta all'estero il mio primo viaggio da sola è la mia prima volta da Starbucks quindi dovevo per forza acquistare una tazza che mi ricordasse quel momento e sempre di Starbucks ho anche la tazzina da caffè che mi è stata regalata dal mio fratello durante un viaggio un suo viaggio in Spagna quindi insomma, ormai credo che Starbucks sia uno dei marchi insomma più fashion negli ultimi tempi tutte quante abbiamo qualcosina di Starbucks o tutte quante siamo passate da Starbucks soltanto perché fa fashion e va di moda comunque e successivamente vi mostro sempre un mio viaggio quando sono andata a Parigi ho acquistato questa bellissima tazza mi piaceva tantissimo con questi disegni con la Torre Eiffel, Notre Dame l'arco del trionfo e la scritta Paris Je T'aime e poi ho anche acquistato questo portabustine da tè cioè quando non mi chiedete il nome perché non lo so comunque quando prendete il tè insomma mergete la bustina nell'acqua poi dovete bere il tè e appoggiate qui la bustina che avete appena adoperato quindi insomma mi piace un sacco feci il completo e mi ricorda tanto quei giorni passati a Parigi allora successivamente sempre per rimanere in tema viaggi però questa tazza mi è stata regalata dalla mia amica di Letta è la famosissima tazza di New York lei appunto è andata a New York qualche anno fa e ha avuto questo pensierino molto carino e mi ha portato la tazza I Love New York che praticamente è un mai senza chi va a New York deve obbligatoriamente comprare qualcosa con questo brand mi piace tantissimo perché è verde quindi non è la classica tazza bianca con la scritta ma è verde, cioè uno dei miei colori preferiti poi sempre per rimanere in tema viaggi mia mamma mi portò da San Pietroburgo credo questa famosissima famosissima questa carinissima tazzina quella matrioska e poi questa fantasia insomma a quadretti insomma sono sempre tazze molto semplici con il manico così abbastanza grandi ma per me hanno un valore unico perché ricordano ho un mio viaggio quindi ho un mio momento tranquillo, felice di dispenseratezza e anche il ricordo del viaggio di qualche mio parente o amica che c'è stata e poi ha pensato a me e ha deciso di portarmi questo graditissimo graditissimo pensierino allora viaggi ho finito vi mostro le tazze più vecchie facciamo così una delle più vecchie forse la più vecchia che ho è questa qui con le aristogatti comprata da mia mamma a Firenze quando Disney Store ancora in Puglia non c'erano vi parlo proprio di anni e anni fa e dato che a Firenze c'era e lì praticamente mia mamma e mio papà ci vanno molto spesso perché l'azienda per cui lavora mio padre ha stede a Firenze quindi praticamente Firenze la mia seconda città ha tolto Lecce dove praticamente ho vissuto però sicuramente Firenze la città in cui sono andata più volte e mia mamma ogni volta che andava a Firenze ci portava un piccolo pensierino tra cui queste tazze la superstite questa qui con le aristogatti che se non ricordo male questa realtà era di mio fratello io avevo quella con la bestia che sono andata distrutta però insomma questa qui è proprio un classico della Disney una delle tazze a cui sono più legata perché appunto era sempre bello aspettare che mia mamma tornasse da questo viaggio perché sapevamo che c'era qualcosa anche per noi e sicuramente una delle più vecchie anche questa qui di Natale acquistata a scuola con L'AIL qual è l'associazione che fa L'AIL non mi ricordo vabbè quelle associazioni che passano tra le scuole che comunque trovate anche nelle piazze italiane e acquistando comunque queste tazze e questi gadget in realtà fate anche della beneficenza perché poi i soldi vengono tutti quanti investiti nella ricerca contro i tumori o comunque per altre ricerche per malattie importanti quindi sono particolarmente legata a questa tazza a parte perché appunto è natalizza ma io la utilizzo anche a ferragosto ma anche perché comunque nel mentre so di aver fatto del bene o comunque con un mio piccolissimo contributo ho potuto aiutare la ricerca per delle questioni molto molto importanti e poi c'è questa che è storica di Diddle si chiamava così sì ok con il mio segno zodacale qui c'è è praticamente cancro con la descrizione del mio segno e una delle mie preferite purtroppo mi è stata regalata da due persone due ex amiche quindi insomma adesso non ci parliamo non ho intenzione neanche di incontrarle per strada ma va bene comunque la tazza è stra carinissima e risale ai tempi del liceo praticamente strastra vecchia e anche lei questa tazza con questo simpatico coperchietto e il manico così insomma un po' più particolare rispetto a quelle che vi ho mostrato fino adesso che ho acquistato all'Ocean un po' di tempo fa e che io utilizzo principalmente quando appunto bevo tè tisane in modo tale che mettendo il coperchietto così con questa simpatica bambolina e la insomma la bevanda rimane bella calda e nel frattempo l'infuso al tempo di sciogliersi quindi strabella poi l'ho pagata anche pochissimo però mi piaceva un sacco questo disegno che ho più da mostrarvi allora direi questa qui che mi è stata regalata ad un mio compleanno anche il piattino con queste farfalline e poi questa semplice tazza su rosa con le farfalline che mi è stata appunto regalata da un'amica di mia mamma quando eravamo in Sardegna quindi ho proprio un bellissimo ricordo legato a questo oggetto a questa tazza perché era stato il mio compleanno e io non ero in Italia ero appunto in Berlino poi sono tornata in Italia e sono partita subito con amici mamma e papà insomma in Sardegna e loro mi hanno organizzato questa festa sorpresa ovviamente io non sapevo niente quindi insomma eravamo a cena vedo loro che avevano organizzato tutto la torta i regali mi sono rimasta così e ho detto bellissimo e quindi questa tazza per me ce la posso fare? ok questa tazza è legata appunto a quel bellissimo ricordo quella bellissima festa sorpresa che mi fu organizzata qualche anno fa e allora una new entry e lei l'avrete sicuramente vista su Instagram parecchio mi è stata regalata a Natale dai miei cugini ciao ciao Giusy ciao Daniele e dalla piccola Ginny che so che mi vede però insomma non so se mi riconosce è molto piccina e l'adoro perché è bella grande e poi ha questi puoi è un cupcake quindi proprio un tema che a me piace tantissimo come lo sapete ho sorrigo son po' quindi direi che è fantastica mi piace da morire la utilizzo molto molto spesso e new entry è sicuramente questa qui di Maison du Monde che mi avete visto su Instagram e se riesco magari riuscirete anche a vedere nel video haul delle cose che ho acquistato da Maison du Monde e insomma non mi dilungo a mostrarla perché è la strafamosissima tazza col tappo in silicone che utilizzo per bere tisane e tè e sempre per rimanere sul tema tè tisane non è proprio mia ma l'ho regalata io a mia mamma a Natale però se mi capita gliela rubo molto volentieri è questa simpatica tazza acquistata in un negozietto di Taranto con il coperchio e poi all'interno c'è l'aggeggio proprio l'italiano perfetto dove voi potete mettere il tè o l'infuso e poi immergerlo nell'acqua bollente e lasciare col tappino che il vostro infuso o tè si sciolga insomma molto carina dalle linee molto classiche questa scritta infuso insomma me piace un sacco visto che in casa io e mia mamma beviamo tè sempre o tisane ogni sera ho pensato fosse un'idea carina regalargliela e poi c'è questa teiera col bicchiere che mi regalò mia mamma qualche Natale fa non amo particolarmente questa fantasia non mi piace molto questi colori sono un po' scuri non mi piacciono tanto però è stracomoda perché qui tengo l'acqua con il tè l'infuso qui invece il bicchierino con i due verso e poi si impilano tranquillamente e occupano anche poco spazio per concludere le tazze credo che mancabile sia la tazza di Ikea io vi mostro questa qui verde praticamente credo che sia la tazza che tutte in casa abbiamo o che abbiamo avuto o che avremo perché è proprio il must cioè l'oggetto che quando andate a Ikea comprate per forza e poi la mia posizione per le tazze in realtà non si limita soltanto a queste ma anche mi piace anche collezionare le tazzine per il caffè perché io sono un amante del caffè e in modo particolare vi mostro questa qui indovinate che fantasia è e a po' con il suo piattino che mi fu regalata da Alessio qualche tempo fa e credo l'abbia presa da Amazon per il mio nomastico mi piace questo piccolo pensierino e io la utilizzo sempre la mia tazza preferita perché è bella grande quindi magari se voglio prendere il caffè con un po' di latte di solito mi è comoda questa perché è più larga rispetto alle classiche tazze e poi ovviamente a po' bianca e rossa quindi è proprio la mia tazza insomma e poi che cosa ho più ho queste due con Titti e Gatto Silvestre non le ho acquistate erano i premi insomma che si potevano richiedere con la raccolta punti della GS o Famila ora non ricordo se l'ho acquistata ai tempi della GS o c'era già Famila insomma l'ipermercato i supermercati che trovate così in tutta Italia se siete clienti e appunto mettere a testere ogni spesa sapete che vi accumulano si accumulano dei punti e poi forse tipo maggio potete maggio giugno potete fare richiesta del premio io richiesi queste due simpatiche tazzine perché le volevo portare a Lecce quindi vi parlo proprio di inizi dell'università forse cinque anni fa e le volevo portare a Lecce per bere il caffè con la mia amica Paola ha detto ah sai così molto carino ci beviamo il nostro caffè qui poi in realtà non le ho mai portate anche perché di solito distorgevamo qualsiasi cosa e praticamente abbiamo sempre rotto qualsiasi tazzina piatto bicchiere abbiamo fatto grandi casini quindi queste qui alla fine non le ho portate mai però le ho presi il mio iPhone se sentite i rumori le ho presi appunto per portarle a Lecce e poi vi mostro per ultime delle tazzine che ho acquistato a Taranto allora queste due le ho presi in un negozietto di Taranto la scorsa estate e mi piacciono molto c'è questa qui rossa e questa qui grigia mi piacciono perché sono belle alte e poi hanno il cucchiaino e qui e le ho presi soltanto quattro quindi due grigie e due rosse e le pagai pochissimo tipo due euro l'una e poi in realtà dissi vabbè ma sono quattro in realtà me ne servivano un po' di più perché comunque capita che o le metto nella vostra viglia e quindi mentre me ne servono altre oppure tipo io e mio fratello di solito quando siamo in casa ci beviamo tre caffè al giorno quindi abbiamo sempre bisogno di avere altre tazzine per casa e quindi poi mia mamma è riuscita a trovarle di recente sempre lo stesso modello ma di altri colori che onestamente mi piacciono molto di più quindi questo rosino e questo celestino sono praticamente identiche soltanto appunto di colori diversi bellissimo perché lei la trovate e le pagate anche da meno comunque insomma se girate qualche mercatino qualche negozietto potete trovarle mi piacciono tantissimo perché soprattutto queste due che hanno questi colori più tenui mi ricordano un po' lo stile shabby chic nel senso che hanno questi colori pastello molto delicati ricordo di aver postato una foto su instagram qualche mese fa ed è piaciuta tantissimo e molte di voi mi hanno chiesto dove avesse acquistato queste tazzine e ora non vi nascondo che mentre quelle due le ho prese in un negozio di taranto queste due vengono dal mercato quindi nel senso mia madre le vide sapeva che le cercavo che ne volevo altre e quindi me le prese e le pagò tipo un euro l'una quindi insomma niente di speciale però sono veramente carinissime e che dire io spero di come sempre ok la mia collezione di tazze è finita vi ho mostrato diciamo le principali insomma non sono niente di che niente di particolare ah no 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 bugia ce n'è un'altra vedete mi scordo sempre una questa qui ho ancora tutto imballato perché non l'ho mai utilizzata e quindi ho il anche qui il piattino per la per metterci la bustina di tè che cosa ho più il sotto sotto tazza e poi ho la tazza vera e propria ora questa qui dunque è una tazza da collezione che mi ha regalato mia zia che saluto non so se mai mi sta vedendo già zia non mi fate dire bugie se l'ho acquistata durante un viaggio forse a Praga non mi ricordo comunque è così e niente sapeva della mia passione per l'iPhone continuabile sa conosce la mia passione per le tazze e soprattutto per il tè visto che comunque ho anche il pettino dove appoggiare la bustina e niente mi ha regalato questa tazza che credo avesse acquistato per lei comunque si è una edizione limitata Carmani non chiamatevi ignorante ma insomma non sono molto esperta di queste tazze da collezione però è strabella mi è piaciuta soprattutto perché me l'ha regalata apposta cioè sapeva della mia passione quindi magari era un pezzo che aveva comprato per lei e poi ho deciso di regalarmelo quindi per me è un valore inestimabile come avete visto non l'ho mai adoperata è proprio lì nella confezione il conto appunto di tenerla in esposizione ma non adoperarla mai sono molto legata appunto perché è stato un bellissimo gesto e quindi insomma ci tengo tanto quando qualcuno decide di regalarmi qualcosa e magari ci ha pensato magari sa che può farmi piacere quindi per me è un valore ancora più più importante può anche regalarmi un fiore una matita una penna non tanto l'oggetto in sé mi piace appunto legare a quell'oggetto proprio il pensiero l'affetto insomma che dire io spero di riuscire a caricare i video in tempo di metterli online perché comunque sapete sono delle settimane un po' frenetiche per me e quindi poi settimana prossima ci sarà la laurea quindi non potrò girare tanti video e cercherò comunque di essere presente magari ecco girandoli adesso e poi caricandoli se riesco con calma nei prossimi giorni vi mando un bacio grazie per avermi seguito per essere state qui con me alla prossima ciao